Istanbul, 15 settembre 2017, la Slovenia riscrive la sua storia. Per la prima volta giocherà per l'oro continentale. Dragic e compagni sono infatti la prima finalista degli europei di basket 2017. Più che battuta, sepolta per 92 a 72 la Spagna campione in carica, che dice così addio al trono dopo tre titoli nelle ultime quattro edizioni. Una squadra in missione, guidata dal suo nuovo messia. Quel Luca Donchic a 17 anni si è già preso la ribalta. La stellina del Real Madrid sfiora la tripla doppia, chiudendo con 11 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, e trascina i suoi specie nel terzo e decisivo quarto, nel quale la squadra Kokoskoj Solka la distanza che gli iberici non riusciranno nell'ultimo parziale a recuperare. Dopo il vantaggio 0-2 firmato da Mark Gasol, la Slovenia prende la testa della gara, senza guardarsi più indietro, grazie soprattutto alla precisione da oltre l'arco. Randolph, Blazic e Dragic segnano le prime bombe tentate, poi la difesa e la faccia tosta di Donchic fanno il resto. Scariolo si affida alle torri gemelle Pau e Mark Gasol, e alle invenzioni di Rubio, ma al primo riposo le furie rosse devono inseguire a meno 6, 25-19. Kokoskoj Solka tiene ottime risposte non solo dai suoi titolari, ma anche dai ragazzi che escono dalla panchina. L'emblema è Prepelic, che ci mette energia e qualità. Caratteristiche che non mancano neppure agli spagnoli, ma semplicemente gli avversari sono più bravi. Ogni ogni volta che gli iberici si riavvicinano, sistematicamente gli sloveni rispondono riallungando. Un grande Pau Gasol non è sufficiente per ribaltare l'inerzia della gara, che resta in mano ai biancoverdi, avanti per 49-45.